La Megabox batte Sassuolo e si qualifica nella finale per la promozione in Serie A1 che giocherà contro il Pinerolo, il servizio di Pierpaolo Rivalta. La terza è una cavalcata, 24 ore dopo gara 2 la Megabox schiaccia Sassuolo 3-0 a 23-22-21 i parziali, solo un momento di difficoltà in apertura del secondo set quando le Emiliane scappano a più 6, Valefoglia rientra, Sassuolo strappa ancora e torna a più 4 parità a quota 18 e finale punto a punto che probabilmente porta la gara definitivamente verso la Megabox anche seppur il terzo set non è una passeggiata. Sassuolo si inchina i 13 punti di Bacchi, la più cercata nei finali di set 15 punti Pamio, top scorer per Valefoglia, molto bene anche Bertaiola, 9 così come sono stati importanti gli inserimenti di Staffoggia. Ora la finale per la Serie A, mercoledì a Pinerolo, sabato a Montecchio ed eventuale bella domenica sempre al Paladionigi. Grazie!